Continuano forti le polemiche per la morte dell'orsa danisa a Trento, soprattutto nei confronti di chi ha gestito la sciagurata operazione a partire dalla provincia di Trento, su cui si sono scatenate le ire del governo e del WWF e di altre associazioni ambientaliste. E c'è apprezzione per i due cuccioli che ieri sono sfuggiti a un tentativo di cattura. Si sono riuniti e sono seguiti mediante radiotelemetria. Il ministro dell'Ambiente Galletti sta ancora attendendo la relazione definitiva sulla vicenda.